Sì, grazie Presidente. Nell'annunciare il voto negativo del Partito Democratico, del patto civico, della lista civica che ha sostenuto Umberto Ambrosoli, voglio anche spiegare come noi ci siamo approcciati al piano regionale di sviluppo, che secondo noi è il documento in cui si delinano le linee guide di lavoro, lo ricordava prima Maroni nel suo intervento, che hanno un orizzonte lungo e quindi di per sé quelle linee guide che sono le linee fondamentali per noi non erano emendabili, a meno che avessimo fatto un lavoro profondo di rifacimento. Abbiamo preferito presentare degli ordini del giorno che riassumono di fatto le linee guida del PRS che avremmo presentato noi con Umberto Ambrosoli. Perché abbiamo nostro modo di fare opposizione è questo, modo di opposizione fermo, quando non condividiamo delle cose, ma anche propositivo, l'abbiamo fatto e l'abbiamo messo negli ordini del giorno. Quindi non abbiamo votato anche degli emendamenti, alcuni principi erano anche condivisibili di alcuni emendamenti, ma proprio perché abbiamo scelto quell'approccio ed è un approccio che affonda le proprie radici in una considerazione, che questo piano regionale di sviluppo è in continuità con quello precedente. Lì sì la nostra critica è forte, non è un problema di discontinuità rispetto a Formigoni. Notavo anche alcuni sorrisi sul versante del PDL, guardate di Formigoni qui nessuno ha nostalgia. Anzi, lo vogliamo dimenticare molto in fretta per la pagina negativa, soprattutto dell'ultimo periodo, ma li vogliamo ricordare gli arresti di assessori ed ex-assessori. Quindi nessuno ha nostalgia di quella roba lì, nessuno ha nostalgia. Noi vogliamo invece discontinuità sul piano delle politiche, lì sì ci interessa. E quel PRS scritto nel 2010, ormai è passato, sono tre anni, sono stati lunghissimi. Intrecciamo una crisi economica senza precedenti, una crisi sistemica, intrecciamo una crisi istituzionale dove la crisi del ragionalismo appare in tutta la sua evidenza, aggravata poi da Fiorito e da tutto ciò che è successo. E allora, lì dentro noi vorremmo che ci fosse una riflessione, non c'è, su come la crisi del federalismo fiscale, voglio dire, impatta anche sulla capacità della Regione di avere un'autonomia di spesa e di mettere in campo una politica di investimenti che guardi al futuro. Quello è un passaggio fondamentale. Noi l'abbiamo messo in un ordine del giorno che riassume un po' il ragionamento che come Partito Democratico vorremmo fare, ma in maniera utile, per spingere questo Consiglio regionale, ad affrontare alcuni dei nodi fondamentali senza i quali, se noi non affrontiamo quei nodi, non siamo in grado di dare forza a Regione Lombardia e affrontare le sfide enormi che ci sono. E allora, dicevo, sul fronte della crisi istituzionale noi dobbiamo prendere atto che c'è stato in mezzo il Governo Monti che ha fatto un lavoro iniziale di messa in sicurezza dei conti, ma, bisogna dirlo, nel tentativo di ricentralizzare la spesa, ha bloccato il percorso del federalismo fiscale. Allora, noi vorremmo che quel percorso semplificato possa andare avanti, perché era anche abbastanza macchinoso. Ricordate, 67 ancora ai tempi del Governo Berlusconi, con Bossi, Maroni e in compagni, c'erano 67 atti normativi ancora da costruire. Allora, ripartiamo da lì. Anche sul tema dei costi standard era complicato. Si sente spesso dire, ma il costo della siringa piuttosto che di quel dispositivo medico. Ma era complicatissimo costruire quel sistema. Il risultato qual è stato? Che lo stesso Governo Berlusconi, per fare il riparto del Fondo Sanitario Nazionale, ha usato quote di ripartizione ponderate in base alla popolazione. Ma perché per fare un lavoro di lunga lena, importante per attuare veramente il federalismo fiscale, l'articolo 19 della Costituzione, bisogna fare le cose gradualmente. Noi quello vorremmo che venga fatto. Ecco, da qui l'abbiamo sempre detto e lo sosteniamo. Riprendiamo quello, riprendiamo il lavoro di revisione anche del titolo quinto della Costituzione. Effettivamente ci sono delle questioni da rivedere. Le competenze concorrenti ci hanno messo in difficoltà molto spesso. Quindi rivedere l'articolo 117. In un piano regionale di sviluppo, per una regione che si vuole porre alla guida, voglio dire, dello sviluppo del Paese, il tema di evitare tutta quella conflittualità che abbiamo nel rapporto con il Governo è fondamentale. Questo permette anche di portare avanti delle leggi che spesso rimangono poi incagliate a livello della Corte Costituzionale. L'articolo 116. Anche lì, dov'era la promessa di discontinuità in campagna elettorale di Maroni? Sulla macro-regione, sul 75% delle risorse. Sulla macro-regione, ma abbiamo bisogno veramente di un nuovo livello istituzionale o possiamo, a legge invariata, utilizzare ciò che la Costituzione e le leggi prevedono? Articolo 117. Articolo 116, con tutto il tema del federalismo differenziato. Siamo pronti. Lavoriamo con le regioni più virtuose. Andiamo avanti. Apriamo lì un fronte con il Governo, ma non sulla macro-regione. Possiamo farlo su quello. Sull'articolo 118, le funzioni amministrative ai comuni. Noi siamo, per il federalismo, dei comuni, per le autonomie locali, per valorizzarle. No alla costruzione di nuove forme di centralismo regionale. E c'è tutto scritto lì. Lo possiamo fare. Possiamo andare avanti. E poi, appunto, dicevo, sull'articolo 117, dove già sono previste forme di collaborazione anche trasfrontaliere, sia al lavoro sulla macro-regione alpina, lì, tra enti omogenei, si possono collaborare per attrarre investimenti, risorse, nuovi programmi anche sul fronte comunitario. Quindi c'è molto da fare su quello. Noi siamo disponibili e vogliamo lavorare. Sul versante del 75% delle risorse, lasciatemi dire, ma perché non c'è un'analisi dentro su come è cambiata anche la fiscalità in questi anni, come la crisi morde da quel punto di vista? Noi abbiamo la contraddizione per cui, da una parte, si chiede il 75% delle risorse e poi abbiamo un calo drastico anche delle entrate regionali sui tributi propri. Vogliamo prendere atto di tutto questo? Allora, lì dentro non c'è una riflessione seria. Noi vogliamo, cioè noi siamo per andare avanti su una riforma in senso federale dello Stato, siamo per fare queste cose. Ci sorprende che ci avete bocciato l'ordine del giorno in cui dicevamo tutte queste cose qua. Quello è un programma federalista, autentico, vero, e deve partire dalla Lombardia. Aggiungo un dato, sul fondo, e lì è proprio la beffa, sul fondo del trasporto pubblico. Si era detto, entro il 2013 arriveremo a trasferire alla fiscalità locale quella parte di gettito che ci permette di coprire il trasporto pubblico. Sappiamo, per chi fa l'amministratore sul territorio, quanto questo sia un tema delicato. Adesso, oggi assistiamo alla beffa che quel fondo è ritornato nazionale e si ricomincia a negoziare con il governo per avere i soldi, per mandare avanti il trasporto pubblico in regioni come questa. E allora ripartiamo da lì. Io vorrei che dentro il piano di sviluppo, regionale di sviluppo, in cui andiamo a definire le linee per i prossimi anni, ci fosse una riflessione seria su questi aspetti. Come riavviamo, semplifichiamo il percorso in senso federale. E poi sul versante della crisi economica, appunto, una crisi sistemica. Questa è una crisi che rischia di travolgere tutti. In passato, voglio dire, travolgeva i piccoli, quelli che magari non avevano fatto innovazione, quelli che si erano cullati con la svalutazione. Oggi rischia di colpire anche chi ha fatto innovazione, chi si è indebitata per fare investimenti, per rendersi più competitiva. Quindi, a fianco di quelli, noi dobbiamo costruire nuovi strumenti, dobbiamo semplificare le enormi misure che abbiamo, portiamole a poche misure in modo tale da aiutare chi è colpito dalla crisi della competizione, ma anche provato a mettersi in gioco, perché si è indebitato, appunto, per investire, per guardare il futuro. Noi dobbiamo stare accanto a quello. Sul versante sanitario faccio un esempio per tutti. Noi molto spesso ci lamentiamo, la Lega si è lamentata, ha ragione su questo, noi come Partito Democratico della Lombardia abbiamo dei dubbi che sia la strada giusta dei due miliardi che sono stati dati alle regioni del sud in piano di rientro dal deficit sul versante sanitario. Due miliardi in più rispetto a quello che era dovuto. Io penso che da questo, come facevano i governi precedenti, peraltro, che questo in prospettiva debba finire. Ma noi abbiamo la forza, davanti a quei due miliardi, di dire vogliamo avere i meccanismi di flessibilità per non avere, insomma, questa logica dei tagli lineari, per cui sul blocco del turnover, sul rinnovo dei contratti a tempo determinato, che impedisce di portare all'interno del sistema regionale sanitario medici e infermieri. Beh, lì noi portiamo a casa una contropartita. Fai l'alleanza con le regioni virtuose, ci sono al sud e al nord. E dentro la conferenza Stato-Regioni porta un allentamento del blocco del turnover, dicendo. E allora, come stare dentro questa nuova dinamica, da una parte della crisi istituzionale, dall'altra parte della crisi economica, anche con delle ricette nuove di innovazione? Io penso che lì dentro ci dovesse essere. E noi questo non l'abbiamo visto e quindi vorremmo che questa discontinuità ci fosse, nella modalità, nel modo di approcciarsi, nella costruzione anche di alleanze fra regioni. Ce l'abbiamo già nello Statuto di Autonomia. Articolo 2. Dice già, Regione Lombardia, favorire forme di integrazione, promuovere forme di integrazione con le regioni padane-alpine. Non dobbiamo inventarci niente, l'abbiamo già fatto. L'abbiamo fatto praticamente all'unanimità. È già scritto tutto lì. Non inventiamoci formule nuove. La discontinuità è quella. La discontinuità vera è di fare quello che è già previsto, che ci permette di fare la Costituzione e le leggi che noi abbiamo, magari semplificando, tenendo conto della crisi che c'è stata dal punto di vista delle istituzioni e dal punto di vista economico. Io penso che noi abbiamo messo una serie di idee, ne abbiamo tradotte negli ordini del giorno che abbiamo presentato come patto civico e come partito democratico. Se non si vuole avere le lenti delle ideologie e guardare dentro ci sono delle proposte. Su quelle noi siamo pronti a fare la nostra parte e a portare il nostro contributo. Se invece il confronto avverrà appunto con le lenti delle ideologie, la nostra sarà un'opposizione ferma e non faremo sconti. Quindi il nostro voto su questo PRS non può che essere negativo. Grazie.